Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale, sono Riccardo e oggi vi mostrerò la lavorazione di una lucidatura sulla mascherina dell'autoradio della Giulietta la nuova Giulietta ha l'autoradio di una plastica nero lucido e come tutte le plastiche nero lucide tendono a graffiarsi e fare quei fastidiosi graffi e micrograffi che sulla plastica lucida si vedono molto quindi andrò prima a mascherare tutti i tasti e poi a lucidare una lucidatura leggera perché sono talmente delicate queste superfici che bisogna stare molto attenti a usare un abrasivo molto fine per correggere i difetti e nel contempo lasciare una bella finitura quindi ora trovate già tutto bello mascherato ecco la mascheratura completata io adesso metterei anche qua un po' di nastro in modo tale da evitare qua ci sono dei bei graffiotti comunque e ora con la nano hybrid andrò a lucidare stando attento a non distruggere niente in modo tale da evitare ho messo l'orbita più piccola della nano hybrid in modo tale da avere più controllo lucidatura completata ora non ci sono più i fastidiosi graffi e micrograffi è tutto molto bello lucido e andrò a proteggere con deluxe qualche goccia è più che sufficiente grazie a tutti ecco qua ora è stata montata la plancia bello lucido perfetto e protetto dalla tecnologia in modo tale da evitare il riformarsi di quei fastidiosissimi graffietti con questo vi saluto ciao da riccardo e da genese detailing